Avendo la necessità di collegare la lavatrice e la lavastoviglie alla stessa presa elettrica la presa multipla della Powerfix a circa 5 euro in offerta sul volantino Lidl è calzata a pennello essendo di materiali abbastanza solidi da 16 ampere per oltre 1600 watt e corredata da un interruttore retroilluminato specifiche almeno sulla carta più che sufficienti per non trovarla completamente fusa visto l'elevato assorbimento energetico dei suddetti elettrodomestici soprattutto se accesi contemporaneamente declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento aspetto i vostri commenti il mi piace e le iscrizioni al canale a presto grazie per la visione ciao 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 ciao